Nuove appassionanti avventure al camoscio sull'arco alpino. L'affascinante sfida tra uomo e natura affrontata da esperti cacciatori di montagna. Un altro bel animale e un'altra bella cacciata in montagna. Hook Passion, la nuova stagione. Dal 10 marzo ogni giovedì alle 22 in esclusiva su CacciaTV. Un altro bel animale e un'altra bella cacciata in montagna.